Stamattina ha presentato il nuovo regolamento per la Commissione per le pari opportunità, assessora Adriana Patti. Sì, abbiamo presentato l'avviso che abbiamo pubblicato che ha scadenza 25 di aprile con cui si dà attuazione al regolamento per la Commissione per le pari opportunità tra uomini e donne, opportunità alla pari e diritti civili che è stato approvato dal Consiglio Comunale lo scorso 12 marzo e che adesso vede con la designazione da parte degli enti che sono indicati proprio nel regolamento quella che è la vera e propria composizione e quindi l'avvio delle attività della Commissione. Ma per capirlo io, ma a che cosa serve questa cosa? La Commissione per le pari opportunità tra uomini e donne, oltre ad essere prevista dal nostro statuto, è un organo fondamentale per l'attuazione di quelle che si chiamano il gender mainstreaming, cioè le politiche di genere e quelle che in qualche modo sono le iniziative, i programmi, gli approfondimenti rispetto alla lotta contro la discriminazione tra uomini e donne e non solo. Quelle che sono appunto le azioni positive che si possono fare, tant'è vero che chi la compone fa parte per esempio delle organizzazioni sindacali, i datori di lavoro, le associazioni del terzo settore, le associazioni di centri antiviolenza e abbiamo voluto allargare con questo regolamento anche per esempio agli studenti delle scuole superiori, ai componenti delle scuole, delle comunità insediate, degli stranieri, in questo caso abbiamo previsto le tre donne e addirittura i tre membri designati anche dalla consulta delle frazioni, del patto fra i sindaci, quindi abbiamo voluto dare una visione assolutamente allargata proprio perché le politiche di genere sono un argomento assolutamente trasversale rispetto a tutte le disuguaglianze che possono intervenire in relazione all'età, in relazione appunto alla posizione economica, quindi ci sono diversi impegni che sono indicate appunto nelle finalità di questo regolamento che coinvolgeranno e diciamo occuperanno la Commissione per le pari opportunità.